Dopo il grande successo presso la triennale di Milano, la Fondazione Credito Bergamasco presenta una straordinaria esposizione di capolavori di arte italiana tra le due guerre provenienti da una collezione privata, da De Pisis a Guttuso, da Sassu a Vedova, dal 5 maggio al 1 giugno presso il Palazzo Storico del Credito Bergamasco. Nella sala consigliare il pubblico incontrerà i restauratori al lavoro su dipinti di Lorenzo Lotto e Andrea Previtali. Vi aspettiamo a Bergamo Largo Porta Nuova 2, ingresso libero. Possibilità di visite guidate gratuite nei fine settimana.